Domenico Voso, dirigente responsabile della polisportiva Basket Capaccio, ci illustra un po' il progetto e il ruolo che ricopre, un po' sui generis rispetto alle altre compagini sportive. Io ricopro il ruolo di dirigente responsabile e di conseguenza mi occupo di tutto ciò che riguarda la palestra, l'organizzazione dei campionati, il tesseramento delle ragazze e purtroppo anche quando succede un infortunio o c'è qualche problema medico sono io che sono interessato alla cosa. Le ragazze che avete visto adesso sono quelle dell'Under 17 e fortunatamente abbiamo creato un buon gruppo e soprattutto un buon seguito per quanto riguarda il settore femminile perché dalla Serie B che quest'anno fortunatamente cominciamo a svolgere come campionato abbiamo anche l'Under 17 femminile, l'Under 15 femminile e abbiamo anche le sordienti femminili, bambine intorno del 2003-2004. Abbiamo un grosso progetto non solo ovviamente con la femminile ma anche con la maschile perché abbiamo un buon seguito soprattutto con i ragazzi, per la femminile siamo una delle poche società che riesce a fare maschile e femminile, vincere il campionato siamo alla prima esperienza, ci hanno detto gli altri tecnici che la squadra è formata da buoni atleti però sinceramente restare in Serie B magari nei piani alti bene, vincere il campionato sarebbe la ciliegina sulla torta di questo progetto. Ci può fare qualche nome magari del presidente, dello staff tecnico, dello staff dirigenziale che compongono la posta sportiva basket Capaccio? Certo abbiamo il presidente D'Angelo Donato, il vice presidente Marino Gerardo, poi ci sono io che ricopro il ruolo di dirigente responsabile, poi abbiamo vari dirigenti tra cui l'avvocato De Marco che è il responsabile del settore Serie B perché abbiamo cercato quest'anno di dare un responsabile per ogni squadra. Abbiamo allenatori e preparatori tecnici come Gerardo Marino, bandiera del basket Agropoli di anni addietro che sicuramente è conosciuto ed è stato grazie a lui che è iniziata questa avventura a Capaccio. Poi abbiamo Marco l'allenatore della Serie B che è anche di Agropoli, io stesso sono originario di Agropoli quindi in effetti il basket a Capaccio è arrivato con tre agropolesi, abbiamo Gianni Bisani che è anche di Agropoli e quindi il seme buttato ad Agropoli per quanto riguarda il basket sta dando i suoi frutti anche qui. L'obiettivo quest'anno è vincere, è una responsabilità ulteriore questa per un allenatore? Partiamo dal presupposto che sì abbiamo costruito questa squadra con l'intento di vincere però di arrivare sicuramente fino alla fine, fa giocando una buona palla a Canestro indubbiamente, costruire soprattutto un roster per gli anni futuri. Poi ovviamente se vincere arrivo alla fine alla vittoria va bene, se però non dovesse arrivare va bene comunque perché il nostro obiettivo è quello di arrivare fino alla fine creando un gruppo abbastanza solido per gli anni futuri. Cosa ti ha spinto? Tu sei di Agropoli, in un paese dove il basket regna addirittura con due squadre, la Donato e Venio, la BCC Oro Giallo Basket Agropoli, a sposare il progetto di Capaccio e soprattutto del basket femminile. Io ho già allenato in passato ad Agropoli una squadra femminile, la passione per questo sport che sia da giocatore che come allenatore ti spinge a farlo. Allenare le ragazze, chi non l'ha mai provato è una cosa molto bella, si mettono subito a disposizione dell'allenatore a differenza di qualche maschietto diciamo. Prima una fase regionale, poi si passerà a una fase interregionale. Le avversarie più pericolose di quest'anno per la polisportiva basket Capaccio? Allora sì, si parte con la fase regionale, credo per quanto possa sapere, sono tre le squadre, non dico più forti però sulla stessa parità. Sono Scafati, Ruggi e Marigliano, e poi noi ovviamente. Sono loro le tre squadre sicuramente da affrontare con la giusta determinazione, ti ripeto, per rivelare l'obiettivo finale. Già un mese di preparazione, obiettivo vincere il campionato? Assolutamente sì, l'obiettivo è vincere il campionato e soprattutto fare bella figura e la faremo perché le ragazze sono professioniste, si allenano con grande passione e tenacia. Quindi credo che avremo sicuramente dei buoni risultati quest'anno. Oltre a una squadra forte, uno staff di prim'ordine, sia tecnico che dirigenziale, la passione del basket femminile ha fatto breccia anche a Capaccio? Assolutamente sì, abbiamo avuto già una grande prova l'anno scorso, la Serie C si è mostrata veramente ad alti livelli, in particolare delle ragazze nuove che hanno tirato, come si può dire, le altre. Teniamo conto del fatto che avere due prime squadre, sia maschile che famiglie, è un incentivo per le ragazze che stanno più piccole e che vedono ovviamente come obiettivo andare a crescere e rimanere ovviamente a Capaccio. La soddisfazione è anche di aver lessito una squadra forte e parecchie giocatrici di categoria superiore che hanno accettato anche di scendere di categoria e venire a giocare a Capaccio. Questo, come detto, è una forma di soddisfazione per lei e per tutta la dirigenza? Assolutamente sì, è una grande soddisfazione. In verità non avremmo immaginato di arrivare a tal punto, ma ormai ce la troviamo e spero di andare avanti così.